L'amministrazione comunale ha, come sapete, approvato il nuovo piano di emergenza comunale. Questo piano di emergenza comunale sarà testato, sarà simulato un evento sismico nel quartiere di Vallato e per chi voglia del quartiere di Vallato prendere parte a questa simulazione, a questo evento, che sarà anche un evento molto importante che vedrà coinvolti volontari di altre regioni, la protezione civile nazionale e i volontari della nostra città ovviamente. Quindi per chi vorrà partecipare a questa simulazione, per chi vorrà anche suoninformarsi, chi vorrà partecipare e prendere visione di quello che stiamo facendo, che faremo nel weekend tra il 15 e il 16 di settembre, invitiamo la cittadinanza, in particolare il quartiere di Vallato, martedì sera alle ore 21 presso l'organizzazione Vallato, in via Benedetto Croce 25, la ex Casa Ferri, a partecipare all'incontro pubblico dove sarò presente, oltre io, il sindaco, l'amministrazione comunale insomma, i volontari del CB Mattei e i tecnici comunali che illustreranno il piano di emergenza alla popolazione del Vallato e individueranno anche come coinvolgere la popolazione in questo evento che faremo a breve.